Covid-19 diminuiscono in Sicilia i contagi, 362, 3 morti. A Siracusa sono 24 i nuovi contagi. Covid-19 diminuiscono i contagi nell'isola, sono 362 i nuovi contagiati in Sicilia contro i 548 nuovi positivi di domenica. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono appena 3.252. Sono 30 i nuovi ricoverati, 2 persone in più in terapia intensiva e 3 decedute, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Le persone che attualmente sono in isolamento domiciliario sono 6.426. La provincia più colpita è quella di Palermo con 170 contagiati, seguita da Catania 85, Caltane 7 27, Siracusa Enna 24, Ragusa 22, Messina 7, Trapani 3 e Agrigento 0. Il governatore Musumeci, in Sicilia abbiamo 4 zone rosse per il livello elevato di contagi. Il coprifuoco mi ricorda la guerra e noi siamo in guerra contro un nemico dal quale sappiamo un poco di più ma che non riusciamo a individuare. Non si fa vedere e si fa soltanto sentire quando purtroppo è tardi. Dobbiamo evitare di arrivare al coprifuoco perché la nostra economia e i nostri imprenditori non si potrebbero permettere il lusso di una nuova chiusura.